Ferrara e De Cesare vicinissimi all'accordo. Iniziano a delinearsi gli schieramenti in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Uno tra Diego Ferrara e Fabrizio Di Stefano sarà il nuovo sindaco del capoluogo teatino. In queste ore è dialogo in corso tra la coalizione di centrosinistra e il polo civico che fa capo a Paolo De Cesare. Fin dal giorno degli scrutini del primo turno Ferrara aveva chiuso le porte a Diorio. Non parliamo con la destra, aveva dichiarato, per poi però mandare un chiaro messaggio a De Cesare. Con De Cesare il discorso è aperto da tempo, sia per motivi anche personali. Io conosco il ragazzo perché è stato compagno di scuola di mia figlia, stimo fortemente tutta la famiglia De Cesare. Quindi c'è una specie di trasporto anche affettivo ed emotivo nei suoi confronti. E lo stesso De Cesare quest'oggi fa sapere di essere pronto a schierarsi in vista del ballottaggio. Tenendoci ben lontani da ideologie e partitismi, recita il comunicato stampa del polo civico, nell'interesse della città siamo disponibili a chi vorrà far proprio questo approccio e prosegue rompere drasticamente col passato. E con passato De Cesare non può che riferirsi al centrodestra che con di primio ha governato Chieti negli ultimi dieci anni. Ma anche in casa di Stefano potrebbe aggiungersi un posto a tavola. Fratelli d'Italia si stringe intorno al proprio candidato sindaco e vuol far pace coi forzisti. Il centrodestra deve essere unito anche a Chieti, ha dichiarato il coordinatore regionale Etelsi Cismondi. Noi siamo impegnati, come ho sempre detto, come Fratelli d'Italia ad allargare il più possibile, a facilitare il rapporto e il dialogo tra le forze del centrodestra. Il centrodestra per Fratelli d'Italia è un valore, così come è un ambiente di lavoro, un ambiente di lavoro che sta dando i propri frutti a livello regionale e in alcuni capoluoghi di provincia come l'Aquila e Pescara importanti. La stessa cosa secondo noi deve essere fatta a Chieti. E adesso è attesa la risposta di Mauro Febbo, che forte del risultato di Forza Chieti al primo turno, quasi l'8% delle preferenze potrebbe tornare a testa alta nella casa del centrodestra.